Due squadre, due apparenti obiettivi differenti, un solo punto di distacco. Chi vince riceverà a Natale il dono del sogno play-off, chi perde il carbone dell'incubo play-out. Crocevia essenziale per entrambe. Promozione Girone A, Campomorone-Santolcese-Albissola. Benvenuti. Per vedere la prima azione nel primo tempo dobbiamo aspettare il 34esimo. Punizione per l'Albissola. Parte Granvillano, ottimo tiro potente di poco alato. Terzo minuto del secondo tempo. Tiro potente per gli ospiti che sembrano essere rientrati più convinti. Serie di rimpalli. Granvillano arriva prima di tutti. Buona azione corale, un po' di sfortuna per i padroni di casa e gol per l'Albissola. Decimo minuto. Guardate cosa fa Granvillano in area. Bell e cattivo tempo, grande azione personale e intervento di Canciani. Rigore o simulazione? A voi la sentenza. 23esimo minuto. Campomorone. Passaggio filtrante per Curabba che arriva perfettamente a destinazione. Ingressa in area per il neacquisto del Campomorone che riesce solo a conquistare l'angolo. 27esimo minuto. Rinvio sciagurato di Madado che favorisce Oliva. Uno sguarda al portiere. Il tentativo di pallonetto fallisce di poco. 33esimo. I padroni di casa non ci stanno a perdere. Bordata dalla distanza di Curabba, annientata dall'attento 40. 36esimo. La svolta. Pozzati in posizione defilatissima. Tenta un pallonetto delizioso. 40. Leggermente fuori dai pali. Grandissimo gol di Pozzati. Uno a uno. 43esimo. Piove sul bagnato. L'Albisola rimane in 10. Espulso su Etta per somma di ammunizioni. 46esimo. Episodio contestatissimo. Gol annullato in fuorigioco. Le immagini parlano da sole. A noi sembra una segnalazione assolutamente scorretta e il gol appare regolare. Si diceva crocevia tra le due squadre che non sono riuscite ad andare oltre il pari. Sostanzialmente serve solo a rimandare ogni giudizio a gennaio questa partita. Da Carlo Casarico e Daniele Orlandi un augurio di ottime feste.